Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnala un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 264 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Il traffico si sta intensificando in A11 in direzione Firenze, tra Prato Est, l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Peretola. Traffico intenso anche in FIPILI in direzione Firenze, tra La Strassigna e Firenze Scandici. Ancora in FIPILI per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, stanotte in orario 22.06 sarà chiuso il tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!